Addio al passato, affrontare il cambiamento e l'avanzare della vita La vita è un viaggio, e talvolta questo viaggio ci porta a dire addio al passato e a intraprendere nuove strade. Quando si chiude un capitolo della nostra vita, può essere una sfida affrontare il cambiamento e guardare avanti senza rimpianti. L'espressione e caro ex, adesso te ne puoi andare per sempre e riflette il desiderio di liberarsi dal passato e abbracciare un nuovo inizio. Spesso, questa decisione può derivare da una serie di esperienze emotive e relazionali che hanno plasmato il nostro percorso. Il consiglio di e non girare la testa, non vedere indietro e suggerisce la volontà di concentrarsi sul presente e sul futuro anziché perdere tempo a rivivere ciò che è già accaduto. Questo atteggiamento può essere parte di un processo di autopreservazione e autoscoperta. Io non ci sarò più e può indicare una rottura definitiva o un distacco emotivo da ciò che è stato. Questo passo potrebbe essere accompagnato da sentimenti di liberazione, ma allo stesso tempo, potrebbe emergere la necessità di affrontare la perdita e di elaborare le emozioni connesse. In un contesto psicologico, questo tipo di dichiarazioni potrebbe indicare una ricerca di autonomia, di autenticità e di rinnovamento personale. Affrontare il cambiamento può essere difficile, ma è un passo cruciale per la crescita e il benessere psicologico. Nel complesso, dire addio al passato è un processo personale che richiede tempo, autoriflessione e accettazione. È un viaggio verso la scoperta di se stessi, verso nuove opportunità e verso la costruzione di un futuro più luminoso.